Allora, a me non interessa far lavorare o non far lavorare le associazioni, a me interessa che chi ha in concessione il bene pubblico, in questo caso le autostrade, rispetti le regole, rispetti le leggi e cioè manutenga, perché miliardi guadagnati da questo concessionario sono tantissimi e non sono rientrati con gli obblighi a cui si doveva sottostare in manutenzione. Ieri sera è rientrato il parere della commissione tecnica di esperti in supporto al mio ministero, lo stiamo leggendo, un parere ovviamente complesso e anche molto ampio come numero di pagine, ma quello che da una lettura sommaria fatta stanotte possiamo iniziare a dire è che si evince un grave inadempimento da parte del concessionario Autostrade per l'Italia e questa è la base per andare avanti. Le decisioni saranno prese nei prossimi giorni o nelle prossime settimane al massimo, ma certamente credetemi, lo dicono solo ai familiari delle vittime, a tutti i genovesi ma a tutti gli italiani, non ci sarà mai più nessuno che gestisce la cosa pubblica che se sbaglia non viene fatta giustizia.